Grazie a tutti Spendere il tempo a parlare di un libro è perché mi piace veramente Io ho lavorato 5 anni per il gruppo Repubblica, quindi Repubblica, di Repubblica, venerdì di Repubblica Spesso, contemporaneamente lavoravo per il giornale, unico caso giornalistico in Italia, di Partisan Poi ho lavorato per Radio Capita, ho lavorato per L'Avistoto, ho lavorato per Borg, ho lavorato per GQ Ho lavorato per Mucchio Selvaggio, adesso attualmente dopo un periodo di pausa per molti motivi collaboro con Libro e poi al contempo collaboro con Alias e Manifesto e con Valenti Ferra Io mi sono subito immediatamente innamorato di questo libro L'ho trovato in capolavoro, secondo me è il libro migliore italiano uscito quest'anno e ho subito pensato, questo è un pazzo, è un genio, è uno psicopatico Io mi sono subito provato bene la storia di una famiglia tedesca dagli anni 30 agli anni moderni e dal suo capostitico, diciamo così, si chiama Hans Hinner, che è di un'idea origine perché poi lo scopriamo anche sui genitori, si ribella al lavoro del genitore che è assolutamente quello più su persona del Fabio e decide invece di seguire il suo sogno di giornalista e lui la giornalista di questo quotidiano che si chiama Matt che avevo frunciato bene, decide di rivoluzionare questo giornale che è un giornale di provincia perché è un romanzo ambientato in una cittadina impintata ma molto simile comunque a quella che era la realtà tedesca a 20 km a Monaco, quindi siamo intorno comunque agli anni 30 e appunto Hans Hinner decide di fare carriera e diventa direttore di questo quotidiano diventa direttore di questo quotidiano e nel frattempo ovviamente la sua scalata giornalistica corrisponde alla scalata sociale, la scalata sociale oggi comprende la scalata di acquisti per cui già negli anni 30 insomma, la villetta, avere il cane, la cane blondi di cui poi poi vi parleremo, il cane di razza, poi la macchina, prima una macchina diciamo borghese poi una Mercedes luccicante, in realtà il romanzo dietro tutto questo dove comunque l'ombra del nazismo comunque incombe ad ogni pagina e secondo me è una grandissima metafora, una potente metafora di quella che è comunque la nostra società che non è più dello spettacolo come la intendeva Guy Debord come poi l'abbiamo intesa anche Baudrillard o Virilio ma se è sposato è diventata proprio la società delle merci cioè la merci ci ha invaso non soltanto come prodotto finale ma ha invaso anche quelle che sono le nostre relazioni sociali cioè se Guy Debord, un libro che non sono conoscenti quello che consiglio si chiama Società dello Spettacolo negli anni 60 diceva che lo spettacolo non era una serie di immagini trasmesse in televisione ma un insieme di relazioni sociali immediati dalla televisione praticamente oggi la merci non solo è invaso gli scaffali non solo è invaso le nostre ideologie non solo è invaso tutto il nostro mondo ma è invaso anche le relazioni sociali perché questo libro è una grande metafora sul discorso della merce cioè sul discorso che negli anni 60 faceva Pasolini denunciando comunque il fascismo proprio della merce ancora prima Rusciano Bianciardi il Pasolini copiava tantissimo ancora prima dall'ottocento Walter Benjamin per esempio il suo passaggio francese il cui descriveva comunque i grandi magazzini francesi di Parigi poi è riuscito attraverso questi personaggi a cui si affeziona le prime 20 pagine sono postiche se devo dire orestamente l'attacco non è di migliore insomma non è diciamo non è paragonabile per esempio ai Bordenbrock citati in quattro di Coppertina tra l'altro con un lavoro per cui lo farei spendere l'editor a vestire i libri pesatamente perché manca una O a uno dei capolavori mondiali della letteratura di Thomas Mann è una grande saga familiare ma è soprattutto appunto è questa metafora questa metafora sulla merce siccome tutti noi siamo diventati delle merci cioè anch'io che sto parlando sono una merce magari la loro mi paghino cioè è tutto cioè è diventato tutto una merce insomma nel senso noi cioè non acquistiamo siamo acquistati insomma non siamo dei consumatori siamo consumati cioè questa è la realtà è un'esplosione è un'esplosione Grazie a tutti